Ancora ride notturni nella retino ai danni di un'attività. Alcuni malviventi sono riusciti a mettere a segno ancora un colpo, questa volta in zona Pratacci in via Pasteur, ma il bottino in questo caso non supera il valore dei danni causati all'azienda. I ladri si sono introdotti nella notte tra sabato e domenica all'interno di una ditta specializzata in sanitaria e termoidraulica. I banditi hanno utilizzato un piatto doccia per sfondare la vetrata ed una volta all'interno hanno preso di mira il distributore automatico di caffè e sono riusciti a portar via anche qualche valigetta di utensili da lavoro per idraulico. Un bottino misero dunque pari a poche centinaia di euro, soprattutto se confrontato ai danni subiti dall'azienda, primo su tutti il vetro blindato mandato in frantumi con un piatto doccia.